Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, bentornati a Checkup Obiettivo Salute. Questa sera conosceremo una new entry di Fisioradi Medical Center, il punto di riferimento per la salute nel città di Pesaro, che è situato nel quartiere di Vismara. Il dottor Giulio Boscarino, esperto in chirurgia vascolare e anche un buon esperto per quello che riguarda la chirurgia estetica, ma questa sera non ci occuperemo di questo tema, parleremo di insufficienza venosa con lui, è giovanissimo, è un medico siciliano che peraltro, tutt'altro che lontano alla sua terra, come ci spiegherà direttamente lui, entriamo direttamente nel tema, conoscendolo meglio. Dottor Giulio Boscarino, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. E all'esordio con la nostra trasmissione Checkup Obiettivo Salute, un giovane medico che viene da Faenza e arriva a Pesaro per esercitare la sua professione, che è una specializzazione nel campo della chirurgia vascolare. Esatto, esatto. Mi occupo proprio di chirurgia vascolare, sia di tipo arteriosa che venosa. E quando si parla di chirurgia vascolare, chiaramente la prima cosa, o comunque quando si parla di flebologia, di tutte queste questioni che riguardano in realtà l'apparato circolatorio, una delle prime cose che viene in mente è la insufficienza venosa. Ma se si deve parlare di insufficienza venosa, dottore, che cos'è esattamente? Allora, l'insufficienza venosa è una patologia tale per cui viene a mancare il normale flusso venoso del sangue verso il cuore. Quindi, diciamo, il sinonimo dell'insufficienza venosa è quello di reflusso venoso. È una patologia che colpisce più le donne che gli uomini, con una percentuale intorno al 20-30% delle donne, che addirittura sale al 50% delle donne se consideriamo la fascia sopra i 50 anni. Quindi è una patologia abbastanza diffusa, di tipo multifattoriale, che parte da un quadro di predisposizione genetica, su cui si sommano una serie di, chiaramente, fattori di rischio esterni, il fumo, l'obesità, l'ipercolesterolemia e quant'altro. Quindi, chiaramente, anche qui grande attenzione agli stili di vita. Dottore, come mai, secondo lei, si manifesta più nelle donne? Ma, si manifesta più nelle donne per un discorso sicuramente ormonale e sicuramente anche fisiologico-anatomico. Le donne partoriscono, quindi, durante la gravidanza è un quadro che spesso si accentua proprio per un discorso anatomico del bambino del nascituro nel grembo materno, che di base riduce, chiaramente, il normale deflusso venoso delle gambe. È tipico delle donne incinte avere le gambe gonfie. È ovvio che poi, se si ha anche una predisposizione genetica, questo può esitare in una vera e propria insufficienza venosa cronica. E come si manifesta questa patologia? Si manifesta con dei sintomi che possono essere subdoli, il semplice gonfiore ai piedi, il gonfiore alle gambe, per poi sfociare in dei veri e propri dolori crampiformi alle gambe, specialmente al termine di una lunga giornata lavorativa, per poi arrivare, nelle fasi terminali, a delle vere e propri quadri di linfedema, quindi di gonfiore cronico alle gambe, che esitano spesso in delle ulcerazioni delle gambe. Ecco, il mio compito è quello di curare la patologia prima che si arrivi a questi stadi terminali. Che, peraltro, sono degli stadi ai quali si può giungere anche, per esempio, con l'attività. Chiaramente, una persona che sta più in piedi rispetto a una persona che sta meno in piedi, e una donna che sta più in piedi è più soggetta a questa patologia. Certamente, è ovvio che l'attività fisica e l'attività lavorativa danno uno stimolo in più alla progressione della patologia. Se una persona è predisposta ad avere geneticamente l'insufficienza venosa, in più fa un lavoro in cui sta tanto in piedi e non tratta l'insufficienza venosa fin dai primi sintomi, ovvio che l'insufficienza venosa tende a peggiorare nel tempo. Quindi, chiaramente, a un certo momento ci si rende conto che qualcosa non va, appunto, c'è un gonfiore eccessivo, magari ci sono anche quelle sensazioni di pesantezza, no, che molto spesso capitano, e quindi bisogna capire come affrontare la patologia. Bisogna sicuramente rivolgersi a uno specialista e bisogna anche eseguire degli esami diagnostici, tra cui il banalissimo ecocolordoppler venoso, che documenta, diciamo, nero su bianco, se c'è un reflusso venoso patologico nelle vene principali del circolo venoso superficiale delle gambe. Da quello, poi, si inizia chiaramente il trattamento, la terapia dell'insufficienza venosa. Ci possono essere anche dei trattamenti farmacologici, vero? Che possono aumentare il rischio. Esatto, esatto. Sicuramente ci sono dei trattamenti farmacologici, specialmente dei trattamenti di tipo ormonale, che possono aumentare l'insorgenza dell'insufficienza venosa. Come dicevo, è maggiore nelle donne proprio per un discorso ormonale, e sarà ancora maggiore nelle donne che magari assumono delle terapie ormonali contraccettive, proprio perché aumenta la vasodilatazione dei vasi venosi. Ok, è arrivato il momento che abbiamo capito che c'è la patologia, abbiamo fatto una serie di esami, e a quel punto come la trattiamo? Allora, diciamo che le metodiche terapeutiche sono duplici, cioè in primis delle metodiche conservative, quella basilare è sicuramente l'elastocompressione, cioè delle calze elastocompressive che vanno a schiacciare il circolo venoso superficiale, e associata anche a delle terapie farmacologiche, con dei flebotonici, che sono delle sostanze anche naturali, sono degli integratori che servono per evitare una forte vasodilatazione, specialmente nei periodi dell'anno, l'estate, in cui le vene tendono a essere più vasodilatate. L'altro tipo di terapia è chiaramente una terapia chirurgica, che al giorno d'oggi ha avuto un'enorme evoluzione, quindi costa anche di metodiche che sono mini-invasive, ad esempio le metodiche endovascolari con il laser o la radiofrequenza endovascolare. Quindi molto importante, appena ci si rende conto che c'è qualcosa che non va, che i gonfiori sono esagerati, rivolgersi allo specialista per fare nella maniera migliore il quadro della situazione. Esatto, anche perché la patologia venosa cronica è una patologia, la cui storia naturale ci dice che è una patologia ingravescente, quindi se non trattata tende sempre e continuamente a peggiorare. Ecco perché bisogna cercare di diagnosticarla fin dai primi stadi e quindi trattarla fin dai primi stadi, onde evitare di arrivare negli stadi terminali in cui magari esita in delle ulcerazioni a livello degli arti inferiori. Perfetto, ci avviamo alla conclusione con il dottor Boscarino che appunto fa il pendolare venendo qui a Pesaro, a Fisioradi Medical Center, una volta al mese. Esatto. Per esercitare quindi e a disposizione di chi dovesse avere questo problema, ma lui fa il pendolare, a dire il vero, anche con la Sicilia, perché in realtà è di origini siciliane. Pensate che il dottor Boscarino una volta al mese scende a Ragusa, la sua città dove tuttora vive la sua famiglia, per fare ambulatorio. Esatto, esatto. La mia missione è anche quella di cercare di curare anche le persone della mia terra ed è per questo che continuo anche a fare attività ambulatoriale in Sicilia, dove purtroppo i servizi sanitari non sono così ben rappresentati come in questa zona. Non sono ben rappresentati i servizi sanitari, sappiamo dei comunque problemi endemici di questa meravigliosa regione italiana, ma è ben rappresentata la straordinaria bellezza della Sicilia, soprattutto della città a cui facevamo riferimento, Ragusa, parlavamo prima, è la patria addirittura riconosciuta attraverso gli sceneggiati televisivi di Montalbano, di una saga proprio straordinaria, quella con Luca Zingaretti, ma in realtà sono dei posti bellissimi. Dottore, da un punto di vista turistico, decidiamo di venire in Sicilia, in provincia di Ragusa, in 30 secondi ci dica dove andare. Sicuramente vi manderei a Marina di Ragusa, che è un posto dove ci sono un po' tutti i servizi e ci sono tutte le attrattive che caratterizzano la mia zona, quindi un posto vicino alle bellezze architettoniche e culturali di Ragusa, ma anche un posto servito con un bel porto turistico, un bel mare e chiaramente la bella cucina siciliana. Ci ha fatto venire una gran voglia di tornare in Sicilia, e sono convinto anche tutti i telespettatori. Grazie. Grazie davvero, ci vediamo lunedì prossimo, il dottor Boscarino è stato con noi. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.